Ci sono i potenti e ci sono i normali. I potenti sono quelli che contano e poi ti do di più sui potenti e i normali sono quelli per cui la realtà è così, come dire, è così superiore a loro che la guardano da normale appunto. Gli attori ci sono? Sono i potenti, sono i governanti, sono i politici, siamo i banchieri centrali, sono quelli che decidono le sorti del mondo, almeno credono in decidere le sorti del mondo. In questo sono attori della recita del potere. Ma i normali non partecipano a questa recita e non partecipano proprio perché loro guardano a questa recita con stupore. E stupore vuol dire distacco. Quindi Cristiana l'aveva tolto. Non tutti gli italiani sono attori. La maggioranza, i normali, non lo sono.